TGEvents.it edizione straordinaria, al trentesimo meeting internazionale del Fiat 500 si è svolta una storica partita di pallone, Italia-Germania, protagoniste le 500. E adesso parliamo di Airshow, segnatevi questa data, le frecce tricolori tornano in Liguria, esattamente nella città di Andorra, con una R sola in provincia di Savona, la data è il 22 settembre, noi ci saremo, vi aspettiamo. E ha reso spazio la musica a tre serate particolari, Dario Baldambembo, Franco Fasano e Danilo Amerio, 9, 16 e 23 di agosto, dove arriva Ligure in provincia d'Imperia, noi ribadisco, noi ci saremo, aspettiamo anche voi. Amici a casa, continuate a seguirci sempre su TGEvents.it, la notizia a portata di Mouse.